Tutto si abbassa perché tutti devono prendere il diploma e si devono diplomare e laureare. Ebbene, nella fatica, a un certo punto, nello spazio della besta triomvante, c'è un bellissimo brano dove Giove dice alla fatica monta, supera e passa con uno spirito, se possibile fia, ogni sassosa e ruvida montagna infervoratando l'affetto tuo che non solo resisti e vinci te stessa, ma e oltre non abbi senso della tua difficoltà non abbi sentimento del tuo esser fatica. Se vuoi essere là dove il polo sublime della verità ti vegna verticale passa quest'appennino, monda queste alpi, varca questo scoglioso oceano, trapassa questo sterile gelato caucaso penetra le inaccessibili erture e subentra quel felice circolo dove il lume è continuo. Quindi Bruno dice se tu vuoi afferrare la verità, se vuoi, devi fare una strada faticosa, è una strada in salita, non è una strada in discesa. Ebbene, la fatica ingarnata nel simbolo dell'asino è l'unica che può contrastare la fortuna. E qui Bruno scrive delle pagine veramente di una straordinaria bellezza, di una grandissima attualità. Voi sapete che c'era un'idea che la vita degli uomini fosse condizionata dalla fortuna, che le nostre disgrazie dipendessero dalla fortuna e che il nostro futuro dipendesse dalla fortuna, raffigurato con una ruota. Vedete quella ruota della fortuna lì dove c'è un re con le orecchie d'asino che sta in alto? Adesso vi faccio vedere poi un'altra ruota con gli asini che girano sulla ruota della fortuna. Questo è Dürer, è un'opera del Narrenschiff di Sebastian Brand, siamo alla fine del Quattrocento. Ebbene, a un certo punto si fa un discorso bellissimo dove Giove dice alla fortuna, dice alla fatica, tu sola, tu fatica, puoi bloccare la ruota, puoi modificare il corso della ruota, significa che tu fatica, puoi modificare il tuo destino, perché l'uomo può modificare il suo destino. Sentite com'è bello. E qui c'è anche una citazione del sesto libro dell'Eneide. Animosità, con la voce del tuo vivace fervore, quando la difficoltà mi preme, oltraggia e resiste, non mancar sovente di intonarmi all'orecchio quella sentenza, e qui cita Virgilio, Bellissimo questa incitazione. Che significa? È il risponso della Sibilla Cumana. Tu devi forzare la fortuna, devi forzare il destino, fino a quando le tue forze te lo possano permettere. E questo che significa? Significa che non bisogna cedere ai mali, ma bisogna affrontarli in maniera più ardita di quando la fortuna ce lo possa permettere. Solo alla fatica, Bruno riconosce, la possibilità di afferrare la fortuna per i capelli. Guardate questo passo molto bello. Passa dunque tu, dea sollecitudine o fatica, e voglio, disse Giove, che la difficoltà ti corra avanti e ti fugga. Scaccia la disavventura, apprendi la fortuna per i capelli, affretta quanto meglio ti pare il corso della sorota e quando ti sembra bene, figgigli il chiodo, a ciò non corra. L'uomo che veniva visto in preda della fortuna, la fortuna gira la ruota e tu sei nella ruota, no? La fatica di Bruno può mettere il chiodo alla ruota e bloccare la ruota e quindi tu sei protagonista e fabbro del tuo destino. Questa è una cosa fondamentale nella visione di Bruno. Ebbene, l'esortazione di Giove ci ricorda molto da vicino un passo bellissimo di Machiavelli. Voi sapete benissimo che Machiavelli nel Principe, a un certo punto, in maniera chiara ed evidente, dice che la fortuna, perché noi rispetto alla fortuna possiamo avere, dice Machiavelli, due atteggiamenti. L'atteggiamento impetuoso, cioè di chi reagisce, di chi attacca la fortuna, o l'atteggiamento rispettivo. Machiavelli usa questo termine, rispettivo, che significa di uno che procede con cautela. Però nel capitolo 25 del Principe, verso la fine del Principe, Machiavelli riconosce che l'unica maniera per controllare la fortuna è quella di essere impetuoso, di aggrederla. Sentite questo passaggio. Io giudico bene questo, che sia meglio essere impetuoso che rispettivo, perché la fortuna è donna e è necessario, volendola tenere sotto, batterla e urtarla. E si vede che la si lascia più vincere da questi, cioè dai giovani, che da quelli che freddamente procedono. Qui c'è un grande campo, che io non posso affrontare questa sera, di rapporto tra Bruno e Machiavelli. Bruno rilegge Machiavelli in queste opere in maniera straordinaria, utilizzando l'asino, utilizzando tante riflessioni di Machiavelli stesso. Ebbene, qui, come vedete, il simbolo dell'asino e della ruota lo ritroviamo in tantissime immagini nell'iconografia rinascimentale. Scusate, in tantissime immagini. Questa è una traduzione tedesca di Petrarca, del Deremedis utriusque fortune, dove vedete che sempre in cima alla ruota c'è il re con le orecchie d'asino, questo personaggio asinino. Ora però, il tema della fortuna, e qui viene un momento dove ci divertiremo assai, perché Bruno è uno scrittore che fa anche ridere. Non è uno scrittore solo serio. Il comico, l'ho dimostrato in un altro libro, è la chiave di lettura fondamentale del pensiero brugnano, proprio perché è silenico. Fuori fa ridere, ma dentro fa riflettere. A un certo punto c'è una relazione tra la fortuna e l'occasione. Come spesso capita, anche in Machiavelli c'è una relazione molto forte tra il tema della fortuna e il tema dell'occasione. L'occasio è la fortuna che noi vediamo, quel momento propizio che si crea. E a un certo punto Bruno usa questa volta l'asino come simbolo dell'occasione. Che cosa succede? È una favola molto originale raccontata nel Candelaio, la famosa favola dell'asino e del leone. Devo dire, noi abbiamo fatto una fatica enorme per cercare una fonte di questa favola. Non siamo riusciti a trovarla. Questo dimostra anche l'originalità di Bruno che a volte riesce a creare delle cose veramente ex novo. E allora la storia è semplice. L'asino e il leone da Napoli devono andare a Roma e devono passare un fiume e il fiume Garigliano che sta al convine tra la Campania e il Lazio. E a un certo punto però, per non bagnarsi tutti e due, decidono di dire, vabbè, all'andata tu asino mi porti sulle tue spalle, al ritorno ti porterò io sulle mie. L'asino paziente prende il leone sulla groppa e comincia a attraversare il fiume. Però il leone, con il movimento dell'acqua, ha paura di cadere. Allora cosa fa? Mette le unghie, poverino, nella pelle dell'asino, nelle carni dell'asino, infliggendogli un dolore terribile. Però l'asino con grande pazienza sopporta questo dolore e passa. Poi il leone scende, lui un attimo sulla sabbia va a strofinare la schiena per riprendersi e arrivano a Roma. Otto giorni dopo c'è il ritorno. Sentite cosa succede. Otto giorni dopo, al ritornare che fecero, era il dovero che il leone portasse l'asino, il quale, essendogli sopra, per non cascarne l'acqua, con i denti afferrò la criniera del leone. E ciò non bastando, per tenerlo su, gli cacciò il suo strumento, o come voglian dire, il tum in denti, per parlare onestamente, al vacuo sotto la coda, dove manca la pelle. Di maniera che il leone sentì maggiore angoscia che sentir possa donna che sia nelle pene del parto, gridando, oi, 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 traditore. A cui rispose l'asino, in volto severo e grave, pazienza, fratello mio, vedi che io non ho altru unghia che questa per attaccarmi. E così fosse necessario che il leone soffrisse e indurasse sinché fosse passato il fiume. A proposito, omnio rero vicissitudo este, e nisciuno è tanto grosso asino che qualche volta, venendogli a proposito, non si serva dell'occasione. Bellissima questa originale favoletta raccontata da Bruno e qui, praticamente, noi troviamo l'espressione latina omnio rero vicissitudo este, che è una deformazione, chiaramente comica, del verso famoso di Terenzio nell'Eunuco. Significa, praticamente, sono le vicissitudine di tutte le cose nel verso di Terenzio. E che cosa fa? Il verso di Terenzio ci offre l'occasione, anche perché lo cita Bruno nel Candelaio, distorcendolo, per fare una rassegna e una piccola, come dire, deviazione. Io ho trovato una raccolta di emblemi che l'autore compone nello stesso momento in cui Bruno pubblica il Candelaio a Parigi, ed è un autore francese che si chiama Jean-Jacques Boissart. Faccio vedere l'immagine. Eccola qui. Se voi leggete qui, c'è Omnium Rerum Vicissitudo, è proprio sopra la vignetta, in alto. E che cosa fa Boissart? C'è una grande ruota in cui viene rappresentato il ciclo vicissitudinale della rosa. Se voi guardate le dodici raffigurazioni del fiore lungo i raggi della ruota, sono le fasi in cui il fiore comincia a sbocciare, eccetera, eccetera, e poi alla fine muore. Arriva che finisce il suo ciclo. Ora, le dodici raffigurazioni mostrano, per l'appunto, la circolarità del processo vita-morte. Però, e qui devo dire che la fortuna non è solo nell'emblematica, ma c'è anche un disegno di un altro autore che si chiama Zacarias Dolendo di Amsterdam fine Cinquecento, dove ancora c'è il motto Omnium Rerum Vicissitudo Est e c'è sempre il tema della fortuna che gira, però questa volta, su un globo che è anche una delle immagini tipiche attribuite alla fortuna. Ora, perché è importante la rosa? Perché tutti sapete che quando si parla di asini e si parla di rosa viene in mente Apuleio. Cioè, Apuleio si trasforma in asino, poi ritorna uomo dopo aver compiuto un'avventura mangiando le rose durante una processione di Iside. E allora, nel ragionamento sovra dell'asino di Giambattista Pino c'è proprio un bellissimo passo dove Pino mette in relazione siamo nel 1550 a Napoli questo testo viene pubblicato mette in relazione le possibilità le modalità che l'uomo ha di relazionarsi con la rosa con le modalità che l'uomo ha di relazionarsi con la conoscenza. Sentite com'è divertente questo passo. Per tale cagione credono molti che gli asini che la natura ha fatto a quattropiedi e l'arte li ha insegnati a agire a duo al tempo delle rose portano la rosa in bocca perché par che abbiano voglia di trasformarsi in uomini. Basondi si poco sapere che non mangiano la rosa ma va masticando solamente il gambo di essa e quando sono per farsi uomini con masticare la rosa la sputano in terra. Sono altri asini che portano la rosa in mano e di passo in passo la fiutano né la vogliono masticare nonché gustarla o ingiottirla per mostrarsi asini sobri. Poi dice che ci sono degli asini che odorano la rosa pensando allora Bruno dice no la rosa la devi mangiare e digerire se vuoi avere la metamorfosi non puoi girare con 25 rose in mano pensando che il numero delle rose ti possano fare sapiente. Ancora una volta c'è questa idea che il rapporto con la conoscenza è un rapporto di intervento della persona fisica e intellettuale nella sua totalità. Ebbene su questo tema Pino fa una critica ai Pino fa una critica ai governanti ecco qui vedete questa vignetta sta nel ragionamento sovra dell'asino Pino dice che il vicere Don Pedro de Toledo che all'epoca governava Napoli era un asino infatti voi vedete al centro l'asino e nei quattro angoli ci sono quattro figure di saggi dice quando un governante è asino ha bisogno di saggi per non mandare a rotoli il governo adesso non sto parlando di oggi cioè non vorrei che io fossi frainteso cioè non sto dicendo che oggi nel nostro presente ci sono degli asini che governano però il Pino in maniera chiara in maniera evidente ci fa vedere che se tu hai un asino al governo ci vogliono quattro sapienti negli angoli che gli diano dei buoni consigli invece se tu hai al centro un filosofo un saggio che governa puoi tenere quattro asini come consiglieri perché non succede nulla quindi era un giochetto molto bello e a un certo punto Bruno in una pagina bellissima del De Monade si scaglia contro i governanti contro l'avidità l'avidità del potere dei soldi di questi governanti che non rispettano i sudditi sentite come sono attuali queste parole te non creò te governante non creò Dio per disprezzare i popoli che ti devono riverire né ti ha comandato di calpestare coloro che ti devono rispettare come invece costume di un non piccolo numero di potenti che impugnano lo scettro come strumento per asservire il popolo negretto niente più grave dell'arbitrio dei potenti l'avida rozastirpe potendo arbitrariamente crearsi i propri diritti crede di toccare il cielo e di poter impunemente calpestare ogni forma di diritto io credo che queste parole siano di una schiacciante attualità e anche sinteticamente io qui in sala degli illustri amici giuristi genovesi che insegnano all'università e che sanno bene di che cosa stiamo parlando ebbene la fatica la fatica come asenità positiva può fare delle cose molto molto importanti e a un certo punto la fortuna interviene nello spaccio perché? perché nella riforma celeste tutti se la pigliano con la fortuna e perché se la pigliano con la fortuna? perché sostengono che se il mondo non funziona la colpa è della fortuna perché? la fortuna è bendata non vede mette la mano su nell'urna e quando deve tirare un sindaco quando deve tirare un presidente del consiglio tira un ladro tira un ignorante tira un non virtuoso e allora la fortuna dice ma perché ve la prendete con me la colpa non è mia sentite questo discorso della fortuna che è oggi non in Italia ma quello che stiamo vivendo nel mondo per voi dice la fortuna avviene che quando la mia mano cava le sorti accorrano più frequentemente non solo al male ma ancora al bene non solo gli infortuni ma ancora le fortune più per l'ordinario gli scellerati che gli buoni più gli insipidi che gli sapienti più gli falsi che i veraci ma perché? perché tutto questo viene la prudenza e mette nell'urna non più di due o tre nomi viene la Sofia e ne mette uno viene la verità e non ne lascia più che uno e meno se potesse e più di cento millenari che sono versati nell'urna volete che alla fine la mia mano occorra una di queste otto o nove persone che di otto novecentomila ed è bellissimo il discorso perché la fortuna se la piglia con la virtù e dice scusate ma voi vi rendete conto di quello che sta accadendo io ho un'urna se nell'urna ci sono un milione di persone ci sono cinque virtuosi quattro sapienti tre che hanno visto la verità quindici persone cosa volete che io mettendo la mano tra novecentonovantottomila delinguenti tiri fuori il virtuoso allora tu virtù non mettere cinque nomi nell'urna mettici cinquecentomila nomi tu mettici centomila sapienti e allora sarà più facile che quando io tiro a sorte avremo un sapiente non un ignorante avremo una persona per bene e non un ladro e allora qui Bruno cosa ci vuole dire che quando noi diciamo è colpa della fortuna è colpa del destino stiamo commettendo un errore gravissimo le parole della fortuna dello spaccio ricordano e qui devo fare una bellissima citazione di un grande autore che è Shakespeare e devo dire che approfitto di questa cosa per rendere omaggio al collega Franco Marengo che ha diretto le opere di Shakespeare e a gennaio è uscito il quarto volume della prima edizione monumentale di tutto Shakespeare con nuovi commenti nuove traduzioni Franco Marengo e genovese di adozione qui questa sera e quindi affettuosamente lo voglio salutare è un pezzo della storia del re Lear di Lear a un certo punto Edmund dice sentite l'affinità tra quello che dice Edmund e quello che ha detto la fortuna nel testo bruniano ecco l'eccellente stupidità del mondo quando siamo vittime della fortuna spesso per gli eccessi della nostra condotta incolpiamo delle nostre sciaguli il sole la luna le stelle come se fossimo canaglie per necessità sciocchi per un obbligo celestiale furfandi ladri e traditori per il dominio di quelle sfere beoni contafrottole e adulteri per una forzata obbedienza a influssi planetari e tutto quello che siamo di cattivo per una sorta di costrizione divina Shakespeare dice non è vero se noi siamo delinquenti e ladri le stelle gli astri le cose astrologiche il mese in cui sono nato non c'entrano niente siamo delinquenti e ladri perché noi abbiamo scelto di essere delinquenti e ladri e quindi è una forma di responsabilizzare le persone e di riportare il discorso alla radice mi avvio alla conclusione ebbene dietro il simbolo dell'asino ci sono altri temi che io non posso trattare per esempio l'asino a un certo punto tratta nella cabola del cavallo Pegaseo la comune origine di tutti gli esseri viventi questa è una cosa molto bella molto attuale che poi Darwin ci ha spiegato in maniera chiara e forte cioè l'asino dice mentre prima si credeva che l'uomo fosse fatto di una materia diversa dagli animali invece la visione naturalistica e lucreziana di Giordano Bruno porta a dire che in fondo noi siamo fatti esseri umani della stessa materia di cui sono fatti tutti gli esseri viventi e l'asino dice in fondo tra me e un'ostrica non c'è nessuna differenza tra un uomo e una rapa una mosca non c'è nessuna differenza sentite com'è bello questo passo quella dell'uomo è medesima in essenza specifica e generica come quella delle mosche delle ostriche marine e piante di qualsivoglia cosa che si trovi animata o abbia anima come non è corpo che non abbia più o meno vivace e perfettamente comunicazione di spirito in se stesso ma allora si chiede Bruno qual è la differenza tra un uomo e un animale non è una differenza ontologica e vi spiego Aristotele cosa diceva diceva che l'uomo era un essere superiore e allora la divinità gli ha assegnato la mano organo degli organi che serve a costruire la civiltà a modificare le cose Bruno invece sulla scia di Anassagora e di Lucrezio dice una cosa diversa l'uomo è diventato il re degli animali perché la natura lo ha dotato di un corpo che gli consente di fare operazioni che gli altri animali non possono fare quindi la differenza tra l'uomo e gli altri esseri viventi non è di natura metafisica ontologica è di natura fisica naturale cioè io ho le mani che mi possono far costruire la civiltà e su questo potrei citarvi tantissime cose belle però una cosa sola vi voglio citare perché nell'asino Machiavelli riprende questo tema e dice che gli uomini purtroppo le mani non le sanno usare perché non le sanno usare perché anziché usarle per costruire la civiltà le usano quando il sesso l'erotismo gli dannoia sentite come è bello noi a natura è il porco che si rivolge agli uomini e il porco rivendica alla supremazia degli animali noi a natura siamo maggiori amici e par che in noi più sua virtù dispensi facendo voi cioè gli uomini d'ogni suo ben mendici se vuoi questo vedere pon mano ai sensi e sarai facilmente persuaso di quel che forse or per il contrario pensi dice il porco all'uomo guarda i sensi noi siamo molto più forti degli uomini l'aquila l'occhio il can l'orecchio e il naso e il gusto angor possiamo miglior mostrarvi cioè noi animali abbiamo questi sensi migliori se il tatto a voi più proprio si è rimasto e a voi vi è rimasto solo il tatto però attenzione dice Machiavelli il qual v'è dato non per onorarvi cioè per lavorare per cambiare la civiltà ma sol perché divenere l'appetito dovesse maggior briga e noi a darvi cioè quando voi avete problemi di appetito venereo e non avete possibilità di soddisfarlo allora la mano è lo strumento che ti aiuta quindi Machiavelli fa una critica comica ancora una volta oscena della realtà chiudo con la ricerca della verità la ricerca della verità lo ricordava prima il collega è una delle cose principali della sinità positiva fatica umiltà e perseveranza sono le caratteristiche principali dell'asino l'asino è un animale di fatica Bruno rivendica ironicamente proprio questa forza che la fatica l'umiltà e la perseveranza hanno e allora solo chi ha coscienza di essere un asino solo chi ha coscienza di non sapere insegue il sapere per Bruno l'essenza della filosofia dove sta sta nel mantenere sempre vivo l'amore per la sapienza ecco perché per Bruno è più importante correre con dignità che guadagnare il palio sentite come è bella questa citazione bruniana giungesi a questo che quando non sia possibile arrivare al termine di guadagnare il palio correte pure e fate il vostro sforzo in una cosa di si fatta importanza e resistete sino all'ultimo non solo chi vence viene lodato ma anche chi non muore da codardo e poltrone non solo è degno d'onore quell'uno che ha meritato il palio ma ancora quello e quell'altro che ha sì ben corso che è giudicato anche degno e sufficiente dell'aver meritato benché non l'abbia vinto che ci sta dicendo Bruno ci sta dicendo una cosa molto importante cioè che quello che conta nella nostra vita non è arrivare primi oggi noi abbiamo l'ansia che solo chi arriva primo ha vinto e questo che cosa provoca nello sport provoca quelli che vingono che si dopano ma a che serve arrivare primi se ti dopi e Bruno dice no quello che è importante è correre con dignità se ognuno di noi imparasse che nella nostra vita quando abbiamo fatto un percorso anche se siamo arrivati terzi quarti quindi ma rivendichiamo la nostra dignità quella è la forza della conoscenza ebbene Bruno sa che il filosofo è un cacciatore in questo ci sono delle citazioni bellissime tra Montegno e Bruno in parallelo noi dice Bruno inseguiamo la preda la verità ma non arriveremo mai ad afferrarla una volta per tutte tutta la nostra vita sarà afferrare una preda che ci sfugge e questo è un segno di grandissima umiltà cioè quello che fa gli uomini migliori non è il possesso della verità ma è la ricerca della verità se io cerco la verità divento migliore ma se io la possiedo e dico questa è la verità nella mano chiusa l'ho uccisa perché nessuno la cercherà più perché se io dico questa è la verità non ci sarà più bisogno di cercarla e Bruno dice no è l'esercizio della caccia è il filosofo che praticamente insegue la verità ebbene la caccia della verità richiede umiltà sacrificio solitudine dolore esilio e Bruno è uno di questi Bruno ha vissuto tutto questo la sua peregrinazione europea nella ricerca della verità era proprio dovuta al fatto che lui andava in una corte in quella corte trovava imposizioni e lui fuggiva litigava col potere rinunciava ai suoi privilegi ebbene nell'esperienza umana di Bruno noi capiamo una cosa che è fondamentale la relazione strettissima che c'è in Bruno tra vita e filosofia Bruno scrive in linguaggio filosofico la sua vita in lui la parola si fa vita e la vita si fa parola Bruno scrive le sue opere ma mentre Bruno scrive le sue opere le sue opere scrivono la sua vita ne orientano la traiettoria ne determinano i punti importanti e fondamentali si tratta di opere viventi queste di Bruno che testimoniano lo sforzo di superare tra la filosofia la frattura che si crea tra la filosofia come discorso filosofico il sapere che costruisce un sistema e la filosofia come maniera di vivere Bruno dice se la tua filosofia non si traduce in una maniera di vivere non si traduce il tuo pensiero nei gesti più umili della tua vita quotidiana allora vuol dire che non serve a nulla oggi nel nostro presente c'è sempre questa frattura questa separazione tra quello che io dico e poi quello che io faccio nella vita di tutti i giorni e a volte vediamo che molti che militano nell'antimafia poi scopriamo che hanno relazioni con i mafiosi per fare esempio che è una cosa a Berrante sapete a Milano dove si riuniva l'andrangheta calabrese in un circolo dedicato a Borsellino a Borsellino quindi per dirvi come le cose si mascherano ebbene chiudo chiudo per dire che c'è un altro punto che è importante l'orazione della fatica annuncia profeticamente il destino di Bruno la fatica dice non far che io prometta cosa per quanto viva ma per quanto ben viva questa è un'osservazione molto profonda che vuol dire ci sono persone che vivono come se fossero morti cioè che tu hai l'impressione di vivere però tu conduci una vita che è una non vita perché non segui la tua dignità non segui i tuoi ideali non credi nelle cose che fai ebbene ancora una volta per Bruno l'importante è correre con dignità ma se la dignità viene meno allora è meglio nel demonade Bruno lo dice anticipando la sua stessa morte quindi una pagina autobiografica è meglio anteporre una morte gloriosa ad una vita in belle una vita senza dignità non è vita perché sei morto sei morto anche se biologicamente sei vivo e Bruno dice la vita non è solo biologia la vita è anche dignità della persona chiudo un minuto nella cena e nelle ceneri ancora una volta l'asino Bruno racconta l'avventura di Saul personaggio biblico che intrapende un lungo viaggio travagliato per cercare degli asini ora al di là di una sottile polemica anticristiana che è sempre presente come sapete in Bruno Bruno pone l'accento sull'importanza della cat della ricerca e sulle sorprese che ogni ricerca porta con sé perché questo è un dato di una grandissima modernità che vuol dire Saul nell'episodio biblico che cita Bruno cosa fa Saul è il primo re degli ebrei lui era andato alla ricerca di asini e mentre va alla ricerca di asini scopre un regno sentite questa citazione non sapete che quando il figlio di Cis chiamato Saul andava cercando gli asini fu in punto ad essere stimato degno e essere ordinato re del popolo israelita andate andate a leggere il primo libro di Samuele e vi vedrete che quel gentil personaggio tuttavia faceva più conto di trovare gli asini che di essere ondo re anzi par che non si contentava del regno se non trovava gli asini ecco dunque come alle volte tal cosa si è andata cercando che quel cercare è stato presaggio di un regno ebbene dietro questa visione di Bruno è facile leggere la nozione di serendipità oggi chi fa scienza sa bene che significa serendipità io voglio usare la parola italiana perché come sapete questa parola deriva da uno scrittore del settecento inglese Walpole che la riprende però la riprende serendipity ma la riprende però da un autore italiano di una raccolta di novelle che è per l'appunto Cristoforo Armeno una raccolta di novelle pubblicata nel 1557 i tre principi di serendipo perché che vuol dire serendipity serendipity significa che noi inseguiamo una cosa vogliamo andare a trovare una cosa e poi ne scopriamo un'altra questa è la vera ricerca oggi i programmi di ricerca dell'Europa tutto il contrario dannazioni andarli a leggere questi programmi anche per la ricerca scientifica ti chiedono il primo anno cosa hai scoperto il secondo anno cosa hai scoperto il terzo anno cosa hai scoperto e il quarto anno come applichi nel mercato le cose che hai scoperto ma questa è ricerca scientifica questa non è ricerca perché se io so tutto dov'è la ricerca la ricerca è serendipity tutta la storia della scienza è gente che va per cercare una cosa e poi ne trovo un'altra il Coreo lo sa benissimo e allora chiudo anche io giovanissimo col mio primo libro ero partito alla ricerca di asini e poi devo dire che ho trovato il mio regno perché questo libro mi ha molto aiutato poi nel corso della mia vita e della mia carriera universitaria però vorrei chiudere ma lasciandovi non le idee chiare come può sembrare da questa mia conferenza vorrei chiudere questa conferenza lasciandovi invece una grande confusione nella testa ed è per questo che ho scelto di chiudere con una citazione di Bruno che ci fa capire ancora una volta è una citazione che lui fa nella cabala del cavallo Pegaseo questo dialogo asinino che Bruno ricorda i suoi lettori la natura sfuggente delle sue opere e quindi quando noi torniamo a casa non possiamo tornare con delle certezze ma dobbiamo tornare con dei dubbi e delle confusioni cito e però eccovi cabala teologia e filosofia dico una cabala di teologica filosofia una filosofia di teologia cabalistica una teologia di cabala filosofica di sorte ancora che non so se queste tre cose avete o come tutto o come parte o come niente ma una cosa so ben certo che avete tutto del niente in parte parte del tutto nel niente niente della parte in tutto grazie grazie Nuccio per questa relazione così ben documentata e anche molto appassionata grazie anche a professor Marsonet ci rivediamo per l'ultimo incontro martedì dove ci saranno animali parlanti disegnati che saranno prenderanno vita direttamente dalle mani dei loro creatori perché ci sarà il silver il creatore di lupo di lupo alberto e staino creatore di bobo e di tante tante vignette satiriche per i più importanti quotidiani quindi a martedì arrivederci mi hanno detto che ti ha spiegato come fare ma so che sei pratico no non sono pratico ecco va bene ok perfetto buonasera a tutti grazie per essere venuti a questo terzo incontro del ciclo animali parlanti oggi abbiamo un ospite di eccezione il professor Nuccio Ordine che ringraziamo molto per essere venuto qui a Genova professore di letteratura italiana all'università della Calabria ma direi un intellettuale a tutto tondo di rilevanza internazionale e ancora dieci giorni fa Le Monde gli ha dedicato una pagina intera e questo è davvero un bel un bel riconoscimento internazionale per la sua attività di intellettuale ripeto un pochino a tutto campo e oggi insieme a Michele Marsonè docente di filosofia all'università di Genova che introdurrà il professor Ordine parliamo di asini asini filosofi filosofi asini parliamo dell'asino di Giordano Bruno a cui il professor Ordine ha dedicato un bellissimo studio più volte ristampato e tradotto in diversi paesi europei ed extraeuropei e l'asino è sicuramente una figura di animale molto particolare come ci spiegherà oggi il professor Ordine animale simbolo di lussuria nel mondo classico ma anche simbolo addirittura cristologico nel medioevo e quindi è una figura molto ambigua duplice dalla duplice valenza simbolica come accadeva spesso nel medioevo questo volume può essere acquistato in fondo alla sala insieme anche agli altri due volumi due tra i tanti best seller del professor Ordine uno è l'inutilità dell'inutile e l'ultimissimo è gli uomini non sono isole i classici ci aiutano a vivere proprio perché uno dei principi che Nuccio non si stanca mai di ripetere è la necessità della cultura classica e della lettura dei classici non solo grece e latini ma i classici della letteratura come speranza come ausilio per poter aiutare l'uomo ad affrontare la vita moderna e quindi come stimolo per la solidarietà solidarietà umana lascio la parola al professor Marsonè e vi auguro una buona ascolto buonasera a tutti io sono molto lieto di essere stato chiamato a presentare questo libro che ho letto e che mi ha sorpreso piacevolmente da parecchi punti di vista soprattutto perché essendo professor d'ordine un docente di letteratura italiana ho scoperto però un docente che ha delle notevoli competenze filosofiche che ovviamente io essendo un docente di filosofia di filosofia della scienza ho trovato molto interessanti le sue considerazioni sulla filosofia di Giordano Bruno che è ovviamente nota ma che viene spesso travisata allora in questo libro io individuo due ordini di questioni la prima è il tema dell'asinità asinità e conoscenza in Giordano Bruno la seconda è la concezione bruniana dell'universo che ci circonda nel quale noi stessi siamo inseriti allora io del simbolo dell'asino ovviamente non so moltissimo perché non sono un cultore di questi campi mentre il professor Ordine è un'autorità internazionale per quanto riguarda la simbologia soprattutto appunto dell'asino l'asino notiamo nel libro è un simbolo di sapienza mentre noi tendiamo di solito a considerarlo o a caricarlo meglio di valenze negative no? l'asino è il tipico animale di cui si parla negativamente invece non è così Ordine dimostra con notevole acume con l'acume che tutti riconoscono che l'asino appunto è molto diverso dalla apparenza e la sua la sua natura ci dimostra che la ricerca del sapere è illimitata e che la natura stessa della nostra conoscenza è effimera e sottoposta al cambiamento non sono temi di poco conto ma sono temi che non erano diciamo così molto popolari al tempo in cui Bruno scriveva perché il tempo in cui Bruno scriveva era ovviamente dominato anche a livello filosofico dal dogmatismo e particolarmente dal dogmatismo aristotelico e scolastico l'asino inoltre ci insegna un'altra cosa fondamentale ci insegna che l'umiltà la pazienza e la fatica sono delle qualità indispensabili per intraprendere la ricerca non soltanto scientifica e per ottenere risultati positivi il professor Ordine ha rilasciato un'intervista molto bella che io ho letto con molto piacere che è uscita sul secolo XIX proprio ieri in cui fa notare appunto che oggi non è più comune considerare pazienza e fatica come requisiti indispensabili per la ricerca scientifica e non oggi si tende a voler ottenere tutto con facilità e invece non può essere così il lato il polo positivo della sinità per così dire e che può generare una intera filosofia della conoscenza e l'asino diventa in questo senso un simbolo stesso della sapienza ma io ho trovato estremamente interessanti appunto essendo un filosofo della scienza un epistemologo la diciamo così il quadro che Ordine ci offre in questo libro della concezione bruniana della scienza che bruno aveva intuito e dico intuito e uso questo questo verbo a ragion veduta aveva intuito alcune alcune cose fondamentali che non gli potevano derivare dalla ricerca empirica e non gli potevano derivare dalla scienza a lui contemporanea perché la scienza a lui contemporanea non aveva assolutamente idee di questo tipo ma ci arriva tramite l'intuizione tramite una sorta di intuizione che potremmo definire a volte più poetica che filosofica la concezione bruniana dell'infinito è assolutamente incredibile perché lui anticipa di parecchi secoli delle teorie delle scoperte che risalgono quanto meno all'ottocento ma direi più spesso al novecento Bruno ha molto chiara in mente un'idea fondamentale nella filosofia d'oggi e cioè il fatto che non si può mai parlare di scienza e di nessun'altra cosa in termini assoluti ecco Bruno è da questo punto di vista un relativista ma un relativista del senso buono del termine perché si accorge con un lacume straordinario che non può esistere una teoria scientifica perfetta ad esempio non ci può essere quella qui dico una cosa un po' pesante non ci può essere quella che molti scienziati oggi definiscono teoria del tutto molti fisici al giorno d'oggi sono convinti che la scienza nostra e dico nostra a ragion veduta questo ha un significato che la nostra scienza sia in grado di raggiungere una conoscenza completa della realtà che ci circonda quindi non soltanto della realtà con la quale noi siamo in contatto dal punto di vista empirico ma di tutta la realtà questa è un'idea che è affascinante da un punto di vista filosofico e scientifico molti scienziati insistono su questo tema senza rendersi conto di una cosa fondamentale che forse Bruno aveva intuito noi la realtà con cui noi siamo in contatto è sempre una realtà tra virgolette nostra che cosa vuol dire questo è una realtà con cui noi entriamo in contatto mediante un certo apparato percettivo un certo apparato sensoriale poi la scienza contemporanea ci ha consentito attraverso la strumentazione scientifica appunto di accedere anche a livelli della realtà che non ci sono immediatamente accessibili ma questo non significa ovviamente che la scienza nostra sia in grado di raggiungere la completezza che sia in grado di raggiungere una conoscenza assoluta dell'universo che ci circonda allora Bruno a questa intuizione appunto ho definito prima incredibile visti i tempi in cui lui scriveva in cui operava ha questa concezione dell'universo infinito cioè un universo che non è legato a noi o meglio lo è per quanto noi riusciamo a capirlo e a conoscerlo empiricamente l'universo è molto più esteso molto più grande delle nostre capacità percettive e concettuali e lui rifiuta appunto la concezione dell'universo finito dice l'universo deve essere infinito anche perché ha una causa infinita come dice nei suoi dialoghi ma soprattutto perché noi non possiamo credere che la teoria copernicana che ha sostituito quella tolemaica sia la teoria finale sia la teoria che ci consente di conoscere tutto l'universo che ci circonda è sempre una teoria legata al nostro modo di conoscere e di interpretare la realtà allora d'accordo mettere il sole al posto della terra ma Bruno si rende conto con una intuizione quasi poetica come dicevo prima che il sole in fondo è soltanto la stella principale di un sistema solare che è solo uno dei tantissimi sistemi solari e poi che la nostra galassia è soltanto una delle tantissime galassie di cui noi non riusciamo non siamo ancora riusciti e probabilmente non riusciremo mai a scoprire i confini definitivi ecco guardate che questa è una il termine scoperta forse non è proprio quello più adatto al contesto ma è una scoperta assolutamente fondamentale ecco Bruno non fa altro che sottolineare i limiti della nostra conoscenza cioè la nostra conoscenza ha dei limiti proprio perché si basa su un apparato percettivo un apparato sensoriale che è nostro ma che non ci consente di valicare certi limiti e questi limiti possono essere valicati soltanto con l'intuizione e con la fantasia come lui ha fatto allora c'è quasi un'anticipazione della continua del continuo cambiamento delle teorie scientifiche le teorie scientifiche che sostituiscono l'una all'altra però senza la possibilità di poter dire che una teoria scientifica anche quella che anche quelle che abbiamo oggi è la teoria scientifica finale è quella assoluta vede Bruno i confini della nostra conoscenza che si espandono ma non si espandono mai abbastanza per riuscire ad abbracciare il tutto questo è estremamente affascinante è affascinante perché ci porta anche a notare che Bruno ha una visione tutto sommato anti-utopica della scienza ma anche anti-utopica della società umana giustamente ordine in questa intervista che nominavo prima che è uscita sul secolo ieri dice che Bruno non condivide affatto la concezione dell'Eden cioè Adamo ed Eva che erano felicissimi e beati nell'Eden perché non avevano occupazione lui dice assolutamente questo non può essere perché una caratteristica degli esseri umani è quella di soffrire e attraverso la sofferenza di arrivare alla conoscenza quindi c'è anche in nuce una appunto una concezione anti-utopica della società e della storia quindi è un autore che è ancora attuale che è enormemente attuale e che io ringrazio luce ordine per averci donato questo libro che ci consente appunto di comprendere tutte queste cose e gli lascio ora volentierissimo la parola grazie bene buonasera e devo dire innanzitutto grazie alla professoressa Mordea per avermi invitato e agli amici del Palazzo Ducale e grazie al collega per questa introduzione che ha toccato dei punti importanti del pensiero di Bruno e del mio lavoro ecco io vorrei entrare subito nel cuore del discorso perché sugli animali si potrebbero fare tante discussioni come dire più generali e io invece ho scelto un campo specifico ho scelto un autore e ho scelto un simbolo il simbolo dell'asino per cercare di vedere insieme come funziona nella filosofia di Bruno questo simbolo poi ho scelto l'asino anche per un'altra ragione un po' legata a Genova sono qui tra i genovesi e Bruno passa da Genova nel 1576 e la prima cosa che fa assiste a una cerimonia della Domenica delle Palme e in questa cerimonia va nella chiesa di Santa Maria di Castello che è una delle chiese più antiche di Genova nel quartiere Molo che all'epoca era gestita dai domenicani quindi proprio dai frati a cui Bruno apparteneva come ordine e vede con sua grande meraviglia che i genovesi adoravano la coda dell'asino che aveva portato Gesù in trionfo il giorno della Domenica delle Palme e Bruno cita questo episodio che gli è rimasto in mente in due opere la prima citazione è una citazione fugace che fa nel Candelaio nel 1582 questa commedia dove uno dei personaggi fa una battuta e dice io ti dico il nome della benedetta coda dell'asino che adorano a Castello i genoesi diciamo battuta generica poi invece riprende lo stesso tema in maniera più approfondita e anche più comica nello spaccio della bestia trionfante uno dei dialoghi asinini di Bruno su cui tornerò tra poco dove Saulino proprio Giordano Bruno medesimo nel personaggio dice così ho visto io gli religiosi di Castello in Genova mostrare per breve tempo e far baciar la velata coda dicendo non toccate baciate questa è la santa reliquia di quella benedetta asina che fu fatta degna di portare il nostro Dio dal monde Oliveto a Ierosolima adoratela baciatela porgete limosina quindi Bruno qui sta riprendendo proprio quello che lui in maniera oculare aveva visto nel suo transito da Genova ora chiaramente avrete notato anche una sottile polemica anticristiana contro il tema delle reliquie voi sapete che esistono degli studi dove alcuni ricercatori hanno preso la briga di andare a vedere nelle chiese sparse per il mondo nelle reliquie hanno scoperto che alcuni santi hanno sette braccia undici piedi 25 dita della mano cioè quindi c'era un problema come sapete di mercificazione di queste cose su cui Bruno chiaramente batte e mi faceva piacere ricordare questa scena che si svolgeva a Genova il simbolo dell'asino è un simbolo che accompagna un po' il pensiero di Bruno in tutta la sua opera sia italiana che latina già nel Cantus Circeus siamo nel 1582 a Parigi viene pubblicato la maga Mary in un dialogo con la maga Circe annuncia il fatto che dell'asino discuteremo ampiamente altrove quindi già Bruno aveva un disegno di dedicare delle opere specifiche all'asino poi sempre nel 1582 nel De Umbris de Arum un'altra opera latina pubblicata a Parigi Bruno ricorda una sua operetta smarrita intitolata l'Arca di Noè infatti quest'opera non è stata mai trovata in cui l'asino è detto occupa un posto di primo piano ma indipendentemente dall'esistenza dell'Arca di Noè non l'abbiamo trovata forse Bruno intendeva scriverla non l'ha mai scritta questo è difficile saperlo ci sono però abbiamo ereditato due dialoghi in cui il tema dell'asino e il simbolo dell'asino occupa una posizione centrale da una parte è lo spaccio della bestia trionfante pubblicato a Londra nel 1584 e l'altro è la cabala del cavallo Pegaseo pubblicata nel 1585 con l'aggiunta dell'asino cillenico nello spaccio della bestia trionfante è interessante perché Bruno fa scoppiavano in quel momento imperversavano le guerre di religione in Europa Bruno si trovava in Inghilterra e stava scrivendo lo spaccio presso l'ambasciata francese a Londra veniva da Parigi e a un certo punto lui aveva visto che le guerre di religione avevano creato una guerra civile incredibile nelle stesse famiglie le persone si uccidevano tra di loro padri e figli fratelli e fratelli e allora Giove convoca un'assemblea degli dei per decidere una grande riforma celeste e a questo punto nella riforma celeste Giove assegna un posto straordinario nel cielo tra le virtù perché lui la riforma celeste la vede come una riforma di tutti i simboli dello zodiaco che come sapete in gran parte sono animali ebbene a un certo punto dice rimane solo una sedia che io non occuperò quella dell'orsa maggiore e quella vicino del fiume eridano che lascerò a un altro momento nella cabala del cavallo pegaseo il dialogo successivo noi sappiamo che Giove vicino queste due sedie che sono potete immaginare l'orsa maggiore e il fiume eridano sono i due astri che si vedono da tutte le parti della terra perché servono come punto di riferimento ebbene che cosa mette poi scopriamo noi Giove la sinità in astratto e la sinità in concreto le mette come l'apice il vertice vicino alla verità della riforma celeste ora perché Bruno si comporta così io non posso entrare nei dettagli della ricostruzione di tutte queste cose perché sarebbe impossibile farlo ma la cosa che io ho cercato di avanzare in questo libro che tra l'altro è il mio primo libro che ho scritto quando avevo 28 anni e adesso l'ho riscritto arricchendolo di tantissime altre cose che nel corso degli anni avevo trovato quindi l'edizione che voi vedete della nave di Teseo 2017 è una riscrittura e un ampliamento di un lavoro che era il mio primo lavoro giovane ricercatore da giovane ricercatore ebbene io ho pensato immediatamente studiando l'asino in Bruno che la lettura come ricordava prima il collega dell'asino come l'ignorante dell'asino era una lettura che era una lexio facilior era fin troppo facile interpretare l'asino solo nel senso negativo che è quello dei nostri luoghi comuni quando uno non va bene a scuola si dice sei un asino si mettono i cappelli di asini a chi non va bene invece nella visione di Bruno Bruno complicava il percorso e io ho voluto complicare anch'io questo percorso per far vedere come nel pensiero bruniano l'asino attraverso l'analisi di questi testi occupasse invece un posto di primo piano anche come simbolo positivo per cercare di farvi capire qual è il funzionamento dell'asino ho utilizzato una immagine che è un'immagine che ha avuto un grande successo nel rinascimento voi sapete che nel simbosio di Platone viene chiesto ad Alcibiade di descrivere con un'immagine Socrate e Alcibiade era molto difficile per lui trovare una sola immagine che racchiudesse Socrate cosa dice Socrate somiglia a un sileno i sileni nell'antica Grecia ve ne ho dato una rappresentazione lì nella prima immagine che voi vedete al centro c'è questo sileno ebbene vedete che sul petto c'è una finestra nell'antica Grecia come erano fatti i sileni erano delle statuette dove all'esterno c'era un'immagine comica di sileno poi tu aprivi la statuetta e all'interno trovavi nascosta la divinità che voleva dire Alcibiade con questa immagine voleva dire che Socrate a vederlo dall'esterno era basso grasso andava vestito in maniera modesta non sembrava uno che si dava tante arie ebbene dietro l'umiltà di Socrate apri Socrate e trovi il sapiente però il sileno poi Erasmo lo rilancia nel rinascimento che cosa ci fa capire che funziona anche al contrario tu vedi un signore ben vestito con la toga magistrale che si dà l'aria di essere un grande filosofo apri il grande filosofo e trovi l'ignorante trovi l'asino e quindi il meccanismo è un meccanismo in cui in fondo vi voglio far vedere anche altre immagini di questo sileno vedete che c'è il motto intus non extra che vuol dire che voi non vi dovete assolutamente fidare delle apparenze voi dovete guardare sempre all'interno delle cose dovete aprire il sileno per capire Bruno dice attenzione per capire i miei libri per capire i miei testi non dovete rimanere sulla superficie dovete andare nella profondità ebbene nello spaccio della bestia trionfante Bruno stesso spiega perché applica il suo simbolo del sileno e mostra che le sue opere sono sileniche cito così dunque lasceremo la moltitudine ridersi scherzare burlare e vagheggiarsi sulla superficie dei mimici comici e istrionici sileni sotto gli quali sta ricoperto ascoso e sicuro il tesoro della bontade e veritade come per il contrario si trovano più che molti che sotto il severo ciglio il volto sommesso la prolissa barba la toga magistrale grave studiosamente a danno universale conchiudono l'ignoranza non menvile che boriosa e non manco che perniciosa e celebrata ribaldaria cioè Bruno dice non vi fidate di uno che si presenta nelle vesti di sapiente quando uno viene sulla scena come sapiente lo aprite e trovate l'ignorante quando uno viene umilmente sulla scena lo aprite e trovate il sapiente però questo modello di Bruno è un modello che come dire oggi potrebbe funzionare anche per capire la nostra realtà perché è una cosa che io insisto sempre con i miei studenti quando faccio i miei corsi i classici non si studiano per superare un esame se i classici si studiassero per superare un esame dovremmo chiudere le università e le scuole non servirebbe a niente i classici si studiano perché ci insegnano a capire la vita la vita nostra dove noi siamo immersi allora ho voluto farvi un piccolo esempio ecco io vi vorrei far vedere questa immagine questa immagine che noi possiamo giudicare con l'ermeneutica del sileno brugnana se voi guardate questa immagine gli asini negativi oggi ce ne stanno tanti cosa diranno vedono in questa immagine l'esteriorità un canotto dei bagnanti che vengono con un giubbotto e pensano che vengono qui per la pacchia per fare le vacanze perché si divertono sono in mezzo al mare e sono in vacanza ecco questa è la lettura superficiale di un fenomeno poi apriamo il sileno e all'interno del sileno veniamo a capire che quei signori lì che stanno su un canotto in mezzo al mare non sono turisti ma sono persone disperate che cercano di trovare un posto dove salvare la loro vita e pensare in positivo un futuro possibile ebbene tra l'asino e il sileno come ho cercato di farvi vedere c'è in fondo una grande affinità perché l'asino funziona alla stessa maniera quando voi vedete l'immagine esteriore del sapiente lì è l'asinità negativa Bruno sotto l'asinità negativa questo grande come dire universo dell'ignoranza chi mette quali sono i nemici che Bruno combatte i nemici che Bruno combatte sono proprio i nemici del sapere da una parte gli aristotelici e gli scettici che frenano i processi della conoscenza dall'altra parte Cristo e i riformatori evangelici che in nome di una vita ultraterrena disprezzano la vita terrena e in ultimo i sostenitori lo ricordava prima il collega del mito dell'età dell'oro e del mito edenico mi vorrei soffermare 5 minuti su questi 3 aspetti partiamo dalla asinità negativa degli aristotelici e degli scettici nella cabala del cavallo pegaseo Onorio che è il personaggio principale e che è un asino parla lui proprio come asino a un certo punto colpisce due scuole filosofiche da una parte la scuola filosofica degli aristotelici qual è la tesi di fondo degli aristotelici noi sappiamo tutto dall'altra parte colpisce la scuola filosofica degli scettici qual è la tesi degli scettici nulla si può sapere ebbene Bruno dice che chi dice che la verità non si può conoscere e chi dice che la verità è una e si può possedere per eccesso e per difetto appartengono a quella genia di asini ignoranti che non permettono al sapere di avanzare poi vedremo perché Cristo e i riformatori evangelici ma io parterei prima un attimo dai sostenitori del mito dell'età dell'oro voi sapete che c'è la scoperta del nuovo mondo dopo alla fine del quattrocento con la scoperta del nuovo mondo i viaggiatori che vanno nel nuovo mondo tornano dal nuovo mondo e parlano di questo giardino edenico dove la natura dà spontaneamente i suoi frutti dove le persone tornano felici perché lì non si lavora la natura dà tutto spontaneamente e allora Bruno capisce che dietro alla ripresa del mito dell'età dell'oro ci sono i germi dell'ozio i germi della negazione della fatica e del lavoro che poi vedremo sono invece i simboli forti della sinità positiva e allora Bruno cosa fa Bruno capisce che l'uomo nell'eden che cosa faceva non faceva nulla non lavorava e per Bruno uno che non lavora uno che non si impegna uno che non studia uno che non ricerca è una bestia perché l'ignoranza è bestialità e allora sentite questo passaggio molto bello dove Bruno in maniera ironica colpisce l'età dell'oro non è chi non loda dell'età dell'oro quando gli uomini erano asini non sapevano lavorare la terra non sapevano l'uno dominare all'altro intender più dell'altro avevano per tetto gli antri e le caverne si donavano addosso come fanno le bestie non erano tante coperte e gelosie e condimenti di libidine e gola ogni cosa era in comune il pasto erano le poma le castagne le ghiande e in quella forma che sono prodotte oggi dalla madre natura quindi qui Bruno fa una critica di questa idea del mito che nel giardino edenico però Bruno capisce che il mito dell'età dell'oro sta portando con sé anche un altro mito che è quello religioso del giardino edenico cosa facevano ad Amedeba nel giardino edenico niente avevano tutto spontaneamente non lavoravano e allora per Bruno meno male che il serpente ha tentato Adamo e Adamo ha mangiato il pomo dell'albero della conoscenza perché mangiando quel pomo noi abbiamo potuto costruire la civiltà perché qual è stata la punizione divina ad Amedeba adesso per guadagnarvi da vivere dovrete lavorare e viva Dio dice Bruno senza il lavoro non ci può essere costruzione di civiltà ecco perché dentro la visione di Bruno c'è questa incitazione al lavoro e alla fatica di cui ripeto tra poco vedremo l'asino come protagonista positivo dall'altra parte Bruno se la piglia con Cristo e con i riformatori evangelici perché se la piglia con Cristo perché in fondo cosa fa il cristianesimo il cristianesimo dice agli ultimi ai poveri non vi preoccupate voi soffrite qui sarete gli ultimi poi lì nel regno dei cieli sarete i primi e allora Bruno dice è pericolosa questa cosa perché è pericolosa perché quando tu fai capire alla gente che questo mondo questa vita è solo transitoria in funzione di un'altra vita stai svalutando e sottovalutando l'importanza della vita terrena e quindi la sofferenza di oggi può essere il premio di una vita ultraterrena domani invece Bruno dice no voi dovete lavorare dovete impegnarvi perché il cristianesimo in questa maniera non fa altro che dire agli umili restate umili e allora Bruno vuole invece una rivolta e vuole che la santa ignoranza teorizzata dal cristianesimo sia criticata guardate questo sonnetto bellissimo che lui pone nella cabala del cavallo pegaseo o santa asinità santa ignoranza santa stoltizia e pia devozione qual sola puoi far l'anime si buone che umane ingegno e studio non l'avanza cioè l'unica cosa che tu devi fare è la santa ignoranza non sapere niente perché poi avrai il premio divino non giunge faticosa vigilanza d'arte qualunque sia o invenzione né dei sofossi contemplazione al ciel dove ti edifichi la stanza cioè tu praticamente non devi arrivare alla conoscenza che è in alto attraverso il tuo lavoro che vi va al curiosi il studiare voler sapere quel che fa la natura se gli astri sono pur terra fuoco e mare perché siete curiosi perché volete conoscere i segreti della natura la santa asinità di ciò non cura ma con mangionde in ginocchione vuol stare aspettando da Dio la sua avventura cioè tu stai con le mani giunte preghi in ginocchione aspetti che Dio ti cambi la vita ti faccia trovare in una vita migliore nell'altro mondo nessuna cosa dura eccetto il frutto della terna requie le quali ne dona un addio dopo le seguie ebbene il modello della santa asinità io ho ritrovato esempi di queste citazioni per esempio nell'elogio della follia di Erasmo ma soprattutto in un'operetta scritta da Machiavelli intitolata l'asino Machiavelli scrive un'operetta l'asino dove voi trovate in questa operetta lui che si trasforma in asino delle riflessioni straordinarie che poi Machiavelli approfondirà dal punto di vista politico nel principe e nei discorsi però quei concetti del principe e dei discorsi nell'asino si ritrovano puntualmente per dimostrare che il simbolo dell'asino non è solo l'ignoranza ma è anche una considerazione sulla sapienza guardate cosa dice Machiavelli ed è una stessa immagine che Bruno utilizza nell'asino creder che senza te per te contrasti Dio standoti ozioso e ginocchioni a molti regni e molti stati guasti cioè dice Machiavelli se tu aspetti che Dio ti risolve i problemi sulla terra gli stati vanno a rotoli perché tu devi intervenire quindi l'ozio e stare in ginocchioni a pregare non serve a niente ora Bruno si scaglia anche contro i teologi fanatici di quel tempo che in nome della teologia stavano disseminando ferro e fuoco in tutta Europa tenete presente che le guerre di religione sono un punto di riferimento e oggi noi sappiamo benissimo che significano le guerre di religione sappiamo benissimo i fanatici che ci sono in tutto il mondo che in nome di Dio uccidono le persone bene Bruno aveva capito che la religione e la fa derivare la parola religio dal latino religare cioè significa stare uniti Bruno dice se la religione anziché creare coesione sociale crea morte odio e separazione viene meno la radice etimologica per cui è stata creata cioè la religione serve a tenerci uniti non a separarci e allora l'analisi di Bruno contro i riformati contro i cattolici fanatici che si facevano la guerra oggi è di una schiacciante attualità per capire certe cose del nostro presente ho parlato della sinità negativa ma adesso mi premerebbe insistere un attimo sulla sinità positiva che è la cosa più interessante se la sinità negativa si fonda sull'ozio la sinità positiva si fonda sulla fatica se la sinità positiva la sinità negativa si fonda sull'arroganza sulla presunzione della sapienza la sinità positiva invece si fonda sull'umiltà la coscienza che io non potrò mai sapere tutto e che tutta la vita di un filosofo è la rincorsa di una verità che io non abbraccerò mai nella sua totalità l'intolleranza degli asini negativi ha a che fare invece con la tolleranza degli asini positivi per Bruno nella ricerca tutti i metodi possono essere buoni non c'è una sola via per arrivare al sapere quindi Bruno ha una visione come dire più complessa più aperta della ricerca del sapere non esiste una sola strada esistono le strade la fatica perché l'asino è simbolo della fatica lo sappiamo nella civiltà contadina l'asino è un animale di fatica però se noi andiamo a leggere un'opera simbolica molto importante ieroglifica di Piero Valeriano ci rendiamo conto che a un certo punto Valeriano a proposito dell'asino racconta un aneddoto e dice che Eraclide di Licia regala al grande re Ptolomeo un trattato il suo trattato era l'elogio della fatica che in greco è ponu enkomion allora che cosa fa il furbo re Ptolomeo mette il dito sulla prima lettera elimina la prima lettera e diventa onu enkomion che significa da elogio della fatica a elogio dell'asino perché se tu levi la prima lettera si passa da ponu a onu che in greco significa appunto asino ebbene questo significa questo legame molto forte che c'è tra l'asino e la fatica nella riforma celeste di Giove nello spaccio della bestia triomvante la fatica infatti assume un ruolo fondamentale senza la fatica non si può costruire la civiltà né si può intraprendere l'avventura della conoscenza perché il polo della verità dice Bruno può essere solo raggiunto dalla fatica e questo contro le moderne pedagogie edonistiche che insegnano ai nostri giovani che tu puoi imparare giocando sbagliato sbagliato la conoscenza è un percorso di fatica e di sacrificio e la fatica e il sacrificio che tu metterai faranno di questo percorso come dire una cosa ancora più importante tanta più fatica tanto più imparerai quindi non è vero niente Bruno lo dice con grande chiarezza e oggi sapete con la storia di fare tutto di fretta i ragazzi devono fare 4 anni anziché 5 al liceo c'è un progetto poi si abbassano i livelli delle scuole e delle università le università diventano licei i licei diventano scuole